guarda quello per tenere su il sedere o al seno forse crossfit l'aria aperta l'aria aperta la destra l'aria aperta l'aria aperta forse crossfit crossfit pilates crossfit crossfit un peso un nuovo marsupo un peso un peso un marsupo e una tipologia di allenamento ecco per tenere su il sedere o al seno lo fai in palestra devi tirare su delle cose si vabbè si c'è dipende il sedele come dico no quelle non c'è in giù non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è un po' Grazie a tutti.